Buonasera a tutti e bentornati su Antenna 2 TV per una nuova puntata di 20.000 giri. Saluto subito il nostro Mario Zucchelli, con cui questa sera commenterò insieme pari pari il Gran Premio che si è disputato ieri ad Imola. Ma prima come sempre con l'aiuto della grafica andiamo a vedere quale è la situazione del Mondiale Piloti. Al primo posto troviamo Hamilton con 282 punti, davanti a Bottas 197, Verstappen 162, Ricciardo 95, Leclerc 85 e Perez 82. Ma sempre con l'ausilio della grafica vediamo anche la situazione del Mondiale Costruttori. Prima Mercedes a 479 punti, davanti a Red Bull 226, Racing Point 149, Renault 135, McLaren 134 e Ferrari ahimè 103. Ma torniamo a noi, cominciamo a commentare questo Gran Premio che si è disputato ieri. Cominciamo proprio dalla figura di Hamilton perché non vogliamo parlare di lui per l'ennesima vittoria ottenuta, per il Mondiale ormai portato a casa e quant'altro, ma a quanto pare ci sono voci, anzi lo stesso Hamilton avrebbe ventilato l'ipotesi di un ritiro dalla Formula 1. Mario, cosa sappiamo in merito? Ma allora, diciamo innanzitutto se mi permettete, oggi stasera manca il secondo pilota, devo in pratica correre da solo. Avevi detto questo, ma secondo me è un messaggio criptato, nel senso che ci sono alcune considerazioni da fare per quanto riguarda il futuro di Hamilton. Hamilton ha chiesto, in prima battuta, ha chiesto una cifra stratosferica a Mercedes per un rinnovo triennale. La Mercedes ha risposto picche a quella cifra, non ci sta per questo rinnovo qui. E un'altra considerazione da fare, Hamilton sta cercando di capire cosa fa Toto Wall, perché in pratica Toto Wall sarebbe il secondo braccio o terzo braccio di Hamilton, se vogliamo definirla così in una battuta. Siccome c'è una simbiosi proprio qui tra pilota e team principal, e dove ovviamente Hamilton dice che le vittorie che ha ottenuto i mondiali sono stato frutto proprio anche di questo connubio con Toto Wall. Toto Wall, pertanto c'è da capire Toto Wall cosa vorrà fare, perché poi c'è in ballo e avremo modo quello, teniamola un attimino in sospeso. La questione sponsor, la questione dello sponsor. Esatto, per cercare, mi hai detto che sarà in una prossima, questa sera, ne approfondiremo, pertanto ci sarà da capire anche quella situazione, se Toto Wall rimarrà, se diventerà team principal della nuova società, ammesso che si farà con questa Ineos. e sono tante cose, ecco, tante considerazioni diciamo da fare. È chiaro che se Mercedes dovesse rimanere in Formula 1, è chiaro che se Toto Wall dovesse rimanere, è molto probabile che anche Louis Hamilton possa accettare, attenzione, non è una riduzione di ingaggio, lui ha chiesto molto di più dell'attuale, la Mercedes vorrebbe firmare a un piccolo ritocco, lui ha chiesto quasi 15 o 20 milioni in più dell'attuale, si parla ancora di 30-35, ne vuole quasi 55, ha sparato 55-60. Ha sparato alto. Ha sparato alto, probabilmente ci ha approvato, ci ha tentato, ecco, Mercedes subito in una nota ufficiale, c'è proprio una nota ufficiale che ha detto a quelle cifre non rinnoviamo, visto anche il momento particolare, sai, l'azienda, ma non solo Mercedes, tutte le aziende che hanno un po' di problemi con i cali dei fatturati e di vendite. Ma anche perché, Mario, ricordiamo che poi dal 2022 arriveranno anche tutti i nuovi regolamenti, cioè ci sarà uno stravolgimento generale, per cui ci sta anche che una casa come Mercedes, davanti a una richiesta così alta, insomma, dica anche di no. Sì, 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 ecco, hai detto, Elena, hai detto giusto, sì, sì, sicuramente, anche ci sono nubi all'orizzonte, ma questo ovviamente non per Mercedes, per tutte le scuderie, per tutto il mondo della Formula 1, Liberty Media, per quanto riguarda i contratti di sponsor, se fino a prima anti-Covid lo sponsor era di 40-50 milioni, probabilmente adesso sono 25, calano anche gli introiti degli sponsor, pertanto tutte le scuderie dovranno tenere conto anche tra introiti, spese, nuovi regolamenti, pertanto c'è tutto lo sviluppo, tutti gli ingegneri che devono lavorare, probabilmente con tutte queste novità e quant'altro, qui le spese aumentano anche, però ovviamente i ricavi calano vertiginosamente, pertanto sai, trovare l'equilibrio in Formula 1 non c'è quasi mai stato, però se la bilancia proprio sprofonda in una maniera spaventosa, c'è il rischio che alcune scuderie possano anche chiudere, perché non riescono più a superire, diciamo, a questi investimenti milionari. Logicamente, a proposito di scuderie, parliamo di Ferrari, perché rispetto allo scorso Gran Premio, abbiamo constatato un calo delle prestazioni, il risultato dello scorso Gran Premio ci aveva fatto ben sperare, o quantomeno ci aveva fatto ipotizzare di essere anche solo all'inizio di quella che poteva essere una nuova strada, e invece ieri un calo delle prestazioni nel Gran Premio di Imola. Il motivo, Mario? Il motivo è abbastanza semplice, nel senso che a Portmau, in Portogallo, per quanto riguarda il full power, vale a dire la potenza che viene espressa alla massima del power unit, era in un 47%, qui a Imola, un circuito molto più veloce, si è saliti quasi vicino al 70%, sapendo la carenza attualmente della power unit di quest'anno, che sappiamo con quell'investigazione che è stata fatta, la Ferrari di colpo si è trovata con 50-60 cavalli in meno. Su un circuito veloce, come può essere Imola, Monza, Spa, e questi circuiti veloci, ovviamente se mancano i cavalli, infatti abbiamo fatto, diciamo, un passo indietro. La monoposto ha detto anche, ha detta, scusate, di Vettel, per quanto riguarda soprattutto il retrotreno, con questo nuovo diffusore, con queste nuove winglet sul platform, nella parte posteriore della monoposto, sembrano che abbiano dato dei risultati incoraggianti, sembrano. La monoposto, anche Vettel, l'ha trovata più stabile per quanto riguarda il retrotreno, meno problemi di sovrasterzo, pertanto è stato abbastanza contento. Anche Leclerc, anche lui, ha detto che la monoposto, diciamo, è migliorata, però abbiamo avuto questo deficit di potenza, e su un circuito dove devi esprimere più potenza, o maggior potenza, inevitabilmente, infatti, Mao ha potuto attaccare, qui a Imola ha dovuto correre in difesa, difatti si è trovato, diciamo, con alcuni piloti dietro che spingevano, mentre invece a Pormaio ha potuto attaccare, perché la meno potenza, cioè, serviva a meno, era meno importante la potenza, ma serviva a più, diciamo, il setà della monoposto, perché era un circuito medio-veloce. Imola era un circuito più veloce. Sì, sì, lo avevamo detto. Serviva più potenza, serviva più potenza alla power di uno della Ferrari, per riuscire a fare dei migliori, o almeno fare un pari risultato, come aveva fatto in Portogallo. Staremo comunque a vedere con il prossimo Gran Premio, vedremo cosa si può migliorare ancora da qui al prossimo Gran Premio. A proposito, volevo parlare anche di Ricciardo, perché per il pilota è arrivato il secondo podio per questa stagione, e possiamo dire che effettivamente la casa francese sta migliorando, è migliorata in questo 2021, scusate, in questo 2020, scusate, mi ero già messa in ottica futura, in questo 2020. A tuo avviso, più avanti, potrebbe addirittura insediare Mercedes? Beh, domanda amletica, però abbastanza facile dare una risposta, in quanto ritengo che attualmente, pur avendo fatto uno step significativo di prestazioni, infatti hanno lavorato molto, quest'anno hanno lavorato molto per quanto riguarda il power unit, sono arrivati anche due ingegneri nuovi aerodinamici, che stanno lavorando molto bene, la Renault è migliorata, però adesso si tratterà di trovare il famoso step, per arrivare a Mercedes, e quello diventa un po' più difficile. Io credo che già riuscire a ottenere dei terzi posti, come Ricciardo, che io amichevolmente lo chiamo Cordileone, ecco, ha già fatto, altri Gran Premi fa, ha già fatto un terzo posto, qui diciamo, si è ripetuto, è vero che ha contribuito il fatto che, con l'esplosione del pneumatico di Verstappen, ha guadagnato un'opposizione, però tutto sommato, Ricciardo, ritengo che sia un ottimo pilota, si è trovato purtroppo, ahimè, nella sua carriera, un po' chiuso, poi può essere stato da Vettel, poi è andato in Renault, non c'è stato, diciamo, per lui il famoso cambio di scuderia, con il salto, con uno scuderia vincente, se, tra virgolette, che ci sia sempre, tra il virgolettato, ci fosse stata l'opportunità di prendere un team vincente, credo che aveva le qualità, Ricciardo, di poter lottare, e sono convinto anche di vincere alcuni mondiali, la qualità, diciamo, c'è, il pilota non lo scopriamo, è stato un pilota forte, soprattutto nelle staccate, che è un po' il suo biglietto da visita, nelle super staccate, quando attacca a una potente frenata, è un po' il suo particolare, come sai, parlavamo di un pilota all'inizio dei car, che quando si inizia, ognuno cerca di costruirsi proprio, la sua guida, la sua dimensione, la sua guida, il suo modo, le caratteristiche, il suo marchio di fabbrica, il suo marchio di fabbrica, bravissima, ecco, lui ha proprio queste staccate, è potente, è in quella, in quel particolare lì, delle super staccate, credo che sia il migliore in Formula 1, riesce a battere anche Lewis Hamilton, e batterebbe sicuramente anche Schumacher, lui ha quella proprio, ha quel feeling, col pedale, che frena anche 20-25 metri dopo, ma riesce a dare talmente una potenza, e riesce a frenare, e sono quei 20-25 metri, che riesce ad attaccarti, e infilarti, ecco, è un po' il suo, giustamente, Elena, come hai detto tu, è un po' il suo marchio di fabbrica. Ecco, a proposito, abbiamo tirato in ballo anche il buon Verstappen, quindi parliamo anche di lui, perché ieri, se non ci fosse stato lo scoppio del pneumatico, la vittoria di Hamilton si poteva insediare? Insediare, scusate. Ma, insomma, in effetti, non stava andando male, stava già insediando Bottas, pertanto, stava andando molto bene, pur essendo un circuito veloce, che sappiamo che la Red Bull, scari, diciamo, da un force molto elevato, qui hanno lavorato anche, diciamo, adesso, anche la Red Bull, è diventata una monoposto, che riesce a far scivolare molto, ecco, il carico aerodinamico, hanno l'opportunità anche di alleggerirlo, pertanto, di rendere più scorrevole, diciamo, la monoposto, e non stava andando bene. Certo è che, sicuramente, lo scoppio del pneumatico, secondo me, forse, avrebbe potuto attaccare anche Bottas, avrebbe potuto attaccare Bottas, perché questo gran premio Bottas ha avuto un problema, ma poi avremmo modo di parlarne, c'è stato un problema per Bottas, e sono sicuro che, se fosse riuscito a liberarsi di Bottas, chissà, forse, che sarebbe riuscito magari ad avvicinarsi anche a Luizia, ma non avrebbe potuto magari vedere, magari, un bel duello. Purtroppo, non abbiamo la controprova, anche perché Imola si presta comunque con il circuito. Eh sì, il circuito era veloce, i tempi, erano molto vicini, diciamo, alla Mercedes, e pertanto voglio dire, chissà, avremmo potuto assistere, diciamo, a un bel duello. Ecco, a proposito, abbiamo detto che Bottas ha riscontrato un problema nel Gran Premio di ieri, lamentava infatti un calo di downforce. Sì, abbiamo proprio, hai detto giusto, Elena, abbiamo proprio un carico aerodinamico, in pratica, un detrito, un detrito, ha rovinato una parte del diffusore, che sappiamo che è poi la parte che dà più downforce di una monoposto. lì si parla di un 20, 22, 23 punti, calcolando la percentuale, scusate, sto facendo dei calcoli perché è una percentuale di punti, perché il carico di danno va a punti, per poi un'equazione che viene fatta, ha perso tra i 20, 22, 23 punti, che sono, adesso bisognerebbe fare il calcolo preciso, una buona parte, comunque ecco, non vogliamo far venire il mal di testa, voglio dire agli telespettatori, che questa è la parte meno importante, ha perso, diciamo, un po' di carico del lamentato, e si era lamentato anche con la TV Radio, che sentiva poco il retroteno, proprio per questo tipo di problema, che, secondo Bottas, o perlomeno anche i tecnici della Mercedes, dal remote garage, hanno visto che aveva perso, per colpa di questo detrito. Bottas ha detto, durante il Gran Premio, ha sentito un detrito colpire sotto la monoposto, e secondo lui ha detto, può darsi, ha chiesto, può darsi che abbia danneggiato l'estrattore, e lui ha detto, può darsi, perché lo vediamo anche noi, dalla nostra telemetria, daremmo garage, gli ingegneri che possono vedere, e in effetti hanno detto, che ci sono dei punti di carico aerodinamico, che erano persi. E' ovvio che, finché va tutto bene, che non hai dietro l'avversario, riesci comunque, in ogni caso, a gestirlo. E' chiaro che, se c'hai un avversario dietro, una perda così importante di carico aerodinamico, diventa un problema rilevante. Soprattutto in quei curvoni veloci lì, devi stare attento, perché questa perda di carico aerodinamico, rischia di farti andare dritto. E poi non puoi più affrontare, a quella di usare, perché capisci che, come arrivi al limite, inizi, senti, cominci a, che il retrotreno, comincia ad alleggerirsi, e hai paura di, allora cerchi di... Non c'è più la stessa stabilità. Non è più bravissima, non è più la stessa stabilità, pertanto, ecco perché Vestamp spingeva. Anche perché, avevo detto, Bottas, avendo perso questi punti di carico aerodinamico, non poteva più spingere, per il rischio di uscire. Certo. Noi ora ci... Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Di nuovo insieme su Antenna 2 TV, seconda parte di 20.000 giri. Cominciamo questa nostra seconda parte, parlando ancora di Hamilton, perché la faccenda, ammetto, mi ha incugliosito parecchio. Mario, a tuo avviso, un ritiro di Hamilton, a tutti gli effetti, cosa potrebbe scatenare poi, nei giochi delle varie case? Insomma, piloti che si spostano, team alla ricerca di altri piloti, anche e soprattutto Mercedes. Chi potrebbe prendere al posto di Hamilton? E nascerebbe, io li chiamo così simpaticamente, nasce il famoso suddocco dei sedili, il famoso gioco che... Sì, sì. Sì, sì, sicuramente si scatenerebbe probabilmente un effetto domino, perché ovviamente ambire al sedile di Hamilton sarebbe, non posso dire molti, perché chiaramente la Mercedes andrebbe a cercare un top pilota, ovvio, non tutti una cosa. E chi potrebbe... Sicuramente, se dovesse andare via Hamilton, credo che Max Verstappen pagherebbe di tasca sua per andare in Mercedes. Sì, per cercare di andare su una scuderia che le potrebbe permettere di poter vincere più mondiali. Sicuramente. È legato a un contratto ferreo con la Rebbu, però sai che i contratti dopo lui comunque ha voluto una clausa che il Rebbu non voleva. Gli c'è stato un po' un tiremolla per qualche mese nel nuovo contratto e lui ha voluto mettere questa clausa che diceva qualora però si dovesse liberare un sedile di una ipotetico possibile scuderia che potrebbe portarmi al titolo mondiale, io posso liberarmi da Rebbu. e questo qui la Rebbu voleva più blindarlo, invece lui proprio c'è stato un po' di tiremolla per qualche mese, lui voleva questo tipo di clausola sperando che si liberasse un posto diciamo in Mercedes o comunque una scuderia che dovesse diventare protagonista. O magari anche Ferrari se fosse andata bene la stagione. Esatto, bravissima. Se fosse l'intenzione lui aveva chiesto ed è riuscito a ottenere questa clausola che qualora ci fosse la potenzialità di poter andare in un'altra scuderia per garantirgli di poter lottare per il mondiale avrebbe potuto liberarsi. Ammetto che Verstappen su Mercedes ce lo vedrei anche. Non so, tu Mario lo vedresti bene? Beh, sì, sicuramente è un ottimo pilota voglio dire come probabilmente andrebbe molto bene voglio dire anche Leclerc ci mancherebbe altro. Alonso come sapete che nel 2021 tornerà con Renault giusto tornerà con Renault pertanto certo credo che Mercedes non prenderebbe Alonso ma per una questione di età per una questione di età sicuramente adesso ed è sicuramente non certo Kimi Raikkon che è il nonno della Formula 1 con i suoi 41 anni ecco sicuramente un giovane con delle ottime prospettive ovviamente per poterlo per poterlo poi ovviamente inserire e poi dare un percorso ovviamente negli anni ecco cioè un giovane talentuoso come può essere Verstappen Leclerc o quant'altro ecco sicuramente certo poi come abbiamo detto l'effetto domino se classico esempio se si dovesse liberare il posto in Red Bull dovesse andare Verstappen in Mercedes si libera il sedino in Red Bull il Red Bull probabilmente ambirebbe un altro pilota e a sua volta quel pilota lascia quella scuderia e si libera quella ma perché poi anche la stessa Red Bull andrebbe a cercare un top pilota non andrebbe a prendere o forse potrebbe anche pensare di dare la possibilità a un giovane però diciamo che Red Bull con il percorso fatto negli ultimi anni esatto potrebbe puntare a un top pilota quindi si innescano comunque tante dinamiche e tanti fattori loro Elena proprio per una loro questione di idea di ideologia di modo di vedere le cose loro puntano sempre a dei giovani e non a dei campioni del mondo perché secondo la teoria di Helmut Markle lui dice che è l'eminenza grigia di Red Bull dice che comunque far far sedere sulla loro monoposto dei campioni del mondo dicono che secondo loro sono già piloti arrivati preferiscono piloti che possono avere fame che possono avere fame e che possono dare tutto alla causa a Red Bull per poterli portare a vincere il campionato del mondo certo però ricordiamo anche tutta la questione che si apre ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata relativa al motore quindi subentrano tante dinamiche che effettivamente diventano rilevanti anche poi sull'ingaggio di un pilota certo avremo poi anche avremo modo anche di parlare adesso mi sembra che negli argomenti avremo modo di parlare anche delle problematiche del motore Honda ecco però prima di arrivare al motore Honda volevo parlare con te anche di Ferrari perché allora Ferrari avrebbe posto il veto sul congelamento delle power unit al momento Mercedes e Red Bull risultano favorevoli invece Ferrari e Renault no cosa c'è in ballo e cosa c'è beh a dire il vero ci sarebbe un excursus da fare perché in effetti come ha detto Jean Todd in una recente intervista che dice che ha detto oh mamma mia ha detto fino a 4-5 mesi fa Red Bull era per non congelare i motori all'ultima riunione che è stata fatta è stato sorpreso perché i vertici di Red Bull hanno detto congelamento dei motori e lui ha detto ma come 4 mesi fa eravate al contrario non ha capito cercava di capire in una sua intervista diceva ma se 4 mesi fa erano per non il congelamento dei motori certo è che adesso la perdita di Honda sicuramente è un problema qui il problema cioè il fatto io penso posso male annusare se mi permettete se mi passate questo termine però non ci credo che il fatto che si sia alleato con Mercedes nella speranza di giocare il tutto per tutto per il fatto che Mercedes possa fornirgli il motore il Power Unit però sai Mercedes ha detto che Power Unit tolto gli altri customer car servizi clienti cioè a team meno competitivi glielo posso fornire a un customer car cioè a una concorrenza a un team cliente che mi possa battere in mondiale sai Mercedes casa madre o Ferrari casa madre con il team cliente che ti batte non è proprio il massimo è da fastidio sicuramente da fastidio io credo che sia abbastanza difficile comunque Ferrari e Renault cioè la Ferrari poi è l'unica scuderia della Formula 1 che ha il potere di veto come sapete ecco se gli altri nove team fossero d'accordo per una questione sia regolamentale tecnica sportiva quant'altro se la Ferrari pone il veto bisogna risedersi al tavolo e trattare ancora con Ferrari perché se la Ferrari pone il veto si alza e dice no a questo a questo regolamento non ci sto o poniamo degli emendamenti o facciamo delle o viene revisionato o viene cambiato o viene fatto quant'altro e allora la Ferrari si alza dal tavolo e dice a me non sta bene dobbiamo ritrovarci rincontrarci trovare la soluzione che possa andare bene anche a noi per tanto la Ferrari cosa succede chi è logicamente ha un handicap di potenza è ovvio che non ha interesse a fare il congelamento del motore chi ha come possiamo dire chi ha una qualità superiore si trova in una situazione migliore che non permette gli altri di avvicinarsi questo è sempre una cosa famosi giochi di potere però questo a quanto pare però è abbastanza infastidita anche la federazione e la federazione è contenta secondo l'intervista che è stata fatta già intervista è attenzione perché poi sai che ci sono i famosi faziosi ah ecco Mario vuol sempre tirare intervista intervista si possono andare sui siti e legge l'intervista integrale del presidente Jean Tod della Formula 1 che ha detto non ha fatto il nome di Mercedes però ha detto già nel 2014 ci siamo cascati nel fare di accettare un regolamento di una scuderia ovviamente era riferito però non lo voglio fare ecco ci siamo cascati per quanto riguarda il 2022 dice i regolamenti ha già fatto uno suolo ha aggiunto ancora più tecnici proprio per stinare il regolamento motoristico per il 2022 proprio fa per non cadere per non cadere in situazioni come è successo con Mercedes vale a dire faremo e decideremo per un motore indipendente senza lasciarsi fare pressioni da nessuno come è successo in effetti questo lo sapevamo a parte il fatto che non c'è poi niente di misterioso perché anche la stessa Mercedes qualche anno fa in un'intervista addirittura a Toto Wolf che disse candidamente che già nel 2014 quando si decise che noi proporremmo scusate noi abbiamo proposto alla federazione questo 1.6 6 cilindri turbo power unit e quant'altro noi giravamo già da 3-4 anni nel banco prova pertanto non era adibito diciamo la formula 1 cioè non c'era proprio lo studio preciso della formula 1 però tutta quella che era la tecnologia già girava al banco prova pertanto onestamente bisogna dirlo la Mercedes ha avuto un enorme vantaggio ha avuto un enorme vantaggio perché gli altri lo stiamo vedendo ancora tuttora negli anni devi continuare ad inseguire chi ovviamente ha avuto questo enorme vantaggio di anno in anno continua sempre ad aumentare e chi è rimasto indietro ovviamente deve continuare a spingere sempre di più per cercare di riuscire a stare di colmare il divario per colmare questo gap che in effetti però ancora tuttora non c'è ecco perché Jean-Ton ha proprio detto non ci lasceremo intimidire da nessuno come ad esempio qualcuno o accettate il nostro motore ci ritiriamo come allora aveva fatto la Mercedes ecco non ci lasceremo intimidire da nessuno ci sarà un tavolo di confronto per tutti i team e tutti i motoristi però fa non accetteremo ricatti da nessuno decideremo autonomamente se sarà questo il motore che decideremo quello sarà il motore che decideremo e l'avremo deciso ovviamente insieme cercheremo di smussare tutte le varie cose però non accetteremo condizionamenti da nessuno e parlando di Mercedes invece ci sono novità sul fronte sponsor Ineos che vorrebbe acquisire il team o quantomeno le quote maggiori della società e anche lì ne avevamo parlato delle ultime novità proprio riguardo a quando stai dicendo Elena non ci sono ancora avevo detto già due puntate fa se non mi ricordo male che il presidente della Mercedes azienda aveva dichiarato ufficialmente in una nota ufficiale che le indiscrezioni che dicevano che forse Mercedes avrebbe ceduto per quei 700 milioni di euro a Ineos a questo sponsor per far sì che la Mercedes avrebbe solo fornito i motori e Ineos avrebbe fatto una scuderia a sé ovviamente con nome Mercedes sopportata dalla Mercedes ma la scuderia ovviamente essendo azionista di maggioranza sarebbe stata Ineos e lui ha smentito che la Mercedes continuerà in Formula 1 ma ecco perché tornando al discorso se mi permetti di Emel e quant'altro c'è ancora da capire perché questo se per caso dovesse comunque spostarsi e pare Ineos diventando magari scuderia Ineos Toto Wolff potrebbe diventare team principal di questa nuova società ecco perché anche Dewey Samuels sta cercando di capire cosa fa Toto Wolff ecco c'è un po' un gioco questo di incastro un po' un cubo di rupli chiamiamolo come volete ecco ci sono questi giochi di incastro pertanto i 2 e 3 stanno cercando di capire anche Toto Wolff sta cercando di capire ma la Mercedes cosa vorrà fare o vorrà solo fornire i motori dopo il 2022 rimarrà in Formula 1 come rimarrà in Formula 1 le incognite sono tante e Hamilton sta a ruota ovviamente sta cercando anche lui di capire sta cercando di capire se vado che poi la Mercedes non è più competitiva faccio un salto nel buio mi dice magari che posso fare un anno sabbatico cercare di capire come si dipanna la storia ecco è un po' questa è la situazione è ancora ingarbugliata pertanto e poi concludo dicendo quella famosa sparata dei 60 milioni che Mercedes ufficialmente ha detto che non accetta questo mega ingaggio se si potrà trattare a delle cifre ragionevoli con dei piccoli ritocchi ma quella cifra ha detto è una cifra assurda e non ci sediamo nemmeno al tavolo a trattare con Hamilton ecco a quella cifra invece per quanto riguarda il 2021 vabbè l'abbiamo detto forse già più volte però la dinamica mi sa che sarà ancora quella Mercedes davanti a tutti e dietro si lotta per il secondo posto le cose cambieranno forse dal 2022 ma forse è d'obbligo mettiamola così l'anno prossimo potremmo vedere interessanti battaglie magari tra Renault Red Bull io mi auguro Ferrari ma qua parlo un po' di parte però magari Renault Red Bull come la vedi? beh Renault Red Bull io credo che la Red Bull sarà ancora sicuramente come torno a dire anche il 2021 ovviamente potendo spendere pochi token per quanto riguarda l'aerodinamica e quant'altro dei salti spaventosi non se ne possono fare perché sono congelati in molte parti anche il Power Unit che nonostante tutto si possa dire che si leggono ad esempio sui giornali e quant'altro che la Power Unit potrà intervenire no sulla Power Unit ci sono 17 componenti dove si può lavorare sugli altri più di 174 componenti quelli sono congelati pertanto su queste parti dove si può lavorare puoi spendere due token pertanto non puoi lavorare su tutti i 17 componenti non puoi lavorare sui 17 componenti puoi lavorare puoi decidere su quali sono due token vale a dire che calcolando due token non è che uno e uno ma diventano su quattro quasi cinque componenti puoi lavorare quasi su cinque componenti su questi due token pertanto potrai incrementare le performance del Power Unit ma non in quella maniera esponenziale come se dovetti ridisegnare di nuovo diciamo la Power Unit ecco cioè allora puoi intervenire una cosa puoi soltanto migliorarlo ecco la parola giusta poi soltanto migliorarlo ormai siamo davvero in conclusione però ricordiamo dove si terrà il prossimo Gran Premio e quando vediamo anche con la grafica il 22 novembre si corre in Turchia Mario due parole sul circuito puoi dirci qualcosa ma è un circuito fantastico la famosa Curva 5 che è una delle curve più spettacolari del mondiale è un circuito abbastanza veloce molto bello da qualche anno purtroppo ero uscito dai radar nella Formula 1 non si capisce però sai sono scelte strategiche della federazione che ha voluto e concludo che siamo ormai a fine trasmissione dicendo che ci sarebbe la bozza del calendario 2021 si parla addirittura di 23 Gran Premio io ritengo che siano troppi probabilmente qualcuno può darsi che possa venire cancellato però potrebbero essere anche confermati io ritengo che possono che siano troppi però sai la federazione se diceva di farne 23 accetteremo Mario non porrà il veto io e Elena non porrà Elena sì Elena può imporre il veto alla federazione allora chiamerà la federazione e dice io dovete abbassarne qualcuno perché pongo il veto assolutamente guarda di sicuro grazie mille Mario per la tua preziosissima partecipazione grazie a tutti voi che siete stati con noi vi auguriamo una buona serata buona serata grazie a tutti i nostri